Let's go bitches! Molti di voi mi avevano chiesto di fare un video sulle classi del competitive Bene, iniziamo con quelle che sono le mie prime classi, quelle che sto usando al momento, quelle che sto utilizzando Come vedete sto utilizzando un fucile d'assalto perché come ruolo ora all'interno del team sto facendo la R, il fucile d'assalto Un ruolo che è basato tutto sul posizionamento sulla mappa e sullo slaying, cioè sul controllo e sull'uccidere le persone Slaying vuol dire uccidere, slayer viene da questo Comunque, come vedete queste qui sono le classi con la R, sono 4 in totale, le altre 2 sono SMG Ve le svelerò pure quelle perché in alcune mappe switch SMG o cambio SMG in base alla situazione Comunque partiamo con quelle con la R L'arma di base è un Remington R5 perché? Perché secondo me nel competitive il Remington è più forte di una K Ha una maggiore portata quindi consente di uccidere i nemici più lontano Senza dover sprecare più colpi e tra l'altro il rinculo essendo solamente verso l'alto Cioè ha un bel rinculo il Remington rispetto a una K12 Però ha il rinculo al posto di essere spostato verso destra e sinistra sotto sopra Come nel caso della K12 che può influire veramente tanto da lontano In questo caso con il Remington è solamente verso l'alto, almeno è maggiore verso l'alto Quindi utilizzo per questo, come vedete, l'impugnatura anteriore Perché l'impugnatura anteriore è bene? Perché mi trovo meglio ad usare il Remington in questo modo Lo sento migliore da distanza, non utilizzo freno di bocca Anche se aumenterei veramente di tantissimo la portata del 3 shot kill Comunque mi trovo benissimo anche così perché mi consente di essere più preciso Il mirino laser sempre perché mi serve per essere più preciso Utilizzo il mirino blu solamente perché mi piace Non utilizzo le mimetiche perché ho paura che le mimetiche su questo gioco fatto per 360 Che è stato progettato su One Facciano calare gli FPS Quindi preferisco non utilizzarle perché un calo di FPS vuol dire anche un radio minore di fuoco Comunque parliamo anche delle altre cose Come per esempio utilizzo una stordente in questa classe In quest'altra un trophy, in questo una stordente, in questo una stordente Ma vi spiegherò dopo il perché Per tutti i perk fondamentali sono, vabbè, concentrazione fisso Silenzio di tomba, perché silenzio di tomba? Bene, perché su questo gioco i passi si sentono tantissimo E anche con silenzio di tomba si sentono Quindi è fondamentale averlo Estrazione rapida e prontezza come combo sulla R devono esserci per forza O almeno levare prontezza e quindi giocare statici Cioè senza correre Quando si è in una zona dove ci possono essere dei nemici Mai correre se non usate prontezza Ricordate, ve lo è importantissimo questo In questa prima classe utilizzo mira stabile Perché questo qui è una classe per i close quarter combat Cioè combattimenti ravvicinati Mira stabile con la R magari in sovereign Ogni tanto mi consente di vincere dei fight Magari nella control room Cioè la zona quella sopraelevata Quindi è molto utile Gli SMG hanno uno strapotere da vicino Quindi questo qui mi dà magari quella piccola percentuale in più Invece di dover posare il joystick ogni volta che incontro un SMG SMG sarebbero le mitragliette comunque Ma ora passiamo agli altri In questo caso perché utilizzo un trophy? Bene, i trophy sono molto lenti Però sono veramente utili Da quando sono stati usati comunque Da Black Ops 2 In questo caso è stato tutto abbinato dal perk Reflex Questo perché? Perché Reflex consente di tirarlo più velocemente Dato che è lentissimo a tirare il trophy Questo è molto utile Perché quando gli SMG pushano Voi potete catturare la baniera centrale Cioè quella di B utilizzando anche il trophy Quindi da farvi scudo da granate random Che possono venire da qualsiasi parte Perché non vi parlo dei perk specialista? Beh perché secondo me non è molto importante parlare dei perk specialista Ognuno mette quello che si sente migliori come primi perk specialista Tanto è molto difficile arrivare in specialista Questo gioco si muore velocissimamente Specialmente con una R contro gli SMG Quindi non influisce tanto L'unico consiglio è di usare due Come si chiama? Due perk per entrare in serie specialista Invece di tre In modo così da fare solo 8 kill invece di 11 Comunque Passiamo anche agli altri In questo caso è una classe Questa qui è la classe base Quella che uso nella maggior parte dei video Ed è con il gioco di prestigio Perché con il gioco di prestigio? Beh perché il remit non avendo 24 colpi Si ricarica molto spesso Quindi mi è molto utile Mi consente di fare più kill di fila Magari uccido due persone Poi mi trovo a ricaricare Beh in questo caso ricarico E posso ammazzare anche una terza Se mi sta pushando addosso Perché gli hanno chiamato che non ho munizioni O sono ferito E l'ultima classe invece è questa qui Con il mirino termico Perché con il mirino termico? Beh perché contro alcuni team Che fanno parecchi scontri da distanza Il mirino termico può essere un salvavita Dato che consente di mirare molto precisamente E poi se levate il mirino termico Switchato a reddotta Vi potete trovare comunque bene ad usarlo Normalmente Come vedete pure in questo caso È abbinato al gioco di prestigio L'unica classe col trofe è questa Ma perché? Perché utilizza reflex Nelle altre come vedete c'è una stun Perché la stun e non la granata Mi sento più a mio a giocare a stunnare le persone Quindi a sapere dove sono E a sapermi muovere in base a dove li ho stunnati Quindi secondo me è molto utile Per quanto riguarda gli SMG come vedete Ho due classi che sono veramente Una diversa dall'altra Tra l'altro qui non ho cambiato specialista Ora lo leviamo subito Allora Oddio perché Mannaggia Fammelo levare via specialista Ok Gole Ho levato dall'alto anche un perca fondamentale Ma lo mettiamo subito E via Allora Perché in questo caso Specialista su questa classe? Allora in questo modo Beh perché Guardate com'è fatta la classe Allora Prima di tutto un Vector Con impugnatura C'è calcio anteriore E Red Dot Questo perché? Perché mi trovo più a mio agio A mirare con il Vector Rispetto ad un Emtar Che può sparare anche senza mirare tranquillamente Mi sento molto più precisa Una elevata portata E una grande precisione Così quindi mi consente di fare anche kill A lungo raggio E muovermi velocemente Sempre abbinato con una stun E guardate Uri Berk Utilizzo Prontezza E distrazione rapida Questo lo utilizzo Perché utilizzo il Red Dot Quindi è un'arma che uso per mirare Quindi per questo utilizzo questi due Berk Se no Se non avessi utilizzato il Red Dot Utilizzerei mira stabile E leverei estrazione rapida Comunque Oltre a questo Sempre concentrazione e silenzio di tomba E infine Agilità Perché agilità? Perché sull'SMG Mi trovo molto comodo Ad avere quel 7% di agilità in più E quindi di muovermi più velocemente Di sgusciare Di fare quelle cose Molto veloce Comunque Questa qui è la classe con il Vector Che è quella da Slaying Il primo pacchetto serie di specialista È mira stabile Perché in questo caso Può essere molto utile Con una classe del genere da vicino Specialmente perché il Vector Ha un elevato danno Quindi Io lo consiglio vivamente Questa classe Per chi utilizza l'SMG Cioè io mi trovo molto bene Ma anche quella con l'Mtar Non scherzo Ora ve la farò vedere Quella con l'Mtar Vedete è molto diversa Utilizza un Red Dot Ma utilizza L'impugnatura anteriore E il freno di bocca Abbinato sempre con l'astordente In questo caso Vedete nei perk Come ho ripetuto prima Non utilizzo estrazione rapida Infatti in questo caso Estrazione rapida È stato aggiunto In questo caso Maratona E Tattica extra Perché questa è la tattica extra Prima di tutto Mi consente di avere due stun E assieme a Maratona Mi consente quindi Di rushare Di correre E le due stun Sono molto importanti Insieme pure ad agilità Avrete molta più velocità Non utilizzo Mira stabile Perché questa è una classe Per il rush Ma Dopo che avete lasciato Comunque voi giocate con l'SMG Io vi consiglierei Di levare Maratona E di utilizzare mira stabile Sempre come vedete Prontezza Silenzio di tomba Concentrazione E agilità Per quanto riguarda Le specialità Preferisco avere In questo caso Sia Scudo blindato E Tatticismo Perché non mi piace Essere stunnato O avere qualcuno Diciamo che mi blocca Con qualche cosa strana O mi tira delle granate addosso Quindi mi consente di sopravvivere E infine estrazione rapida In modo da farmi diventare Veramente OP Abbinata a mira stabile Quando E se riesco ovviamente Entrare In In quella che è la stricca di specialista Spero che questo video vi sia piaciuto Cercherò ora di vedere pure Per Blitz Di fare qualcosa Ma alla fine Per Blitz Mi sembra che si possa usare Tranquillamente le stesse classi O almeno un monoset class SMG Comunque ve lo farò sapere Al più presto Bitches Spero vi sia piaciuto il video Let's go Ci vediamo al prossimo video Datemi pure voi qualche consiglio Grazie a tutti